Questo sistema della guerra è profondamente suicidario, non è solo quella militare, ma è una struttura sociale che si organizza come guerra contro i lavoratori, per esempio attraverso uno sfruttamento, uno sterminio direi, ma anche come guerra contro le libertà, contro la democrazia, contro la verità, contro il pensiero, un totalitarismo dell'informazione, della propaganda, anche una guerra direi contro la natura, contro i corpi, in un processo di surrogazione totale della vita che viene sostituita da surrogati scadenti, il più delle volte contraffatti. Bene, grazie, sono anch'io molto contento di essere qui per poter dare un contributo di riflessione sulla condizione estrema che è stata descritta ampiamente in cui ci troviamo a vivere, specialmente a partire dalle politiche sanitarie liberticide che hanno accompagnato il fenomeno Covid, una condizione di svuotamento dei principi fondamentali della democrazia che in realtà però, a mio parere, ma a parere di molti di noi, procedeva da tempo, quindi non è che questo svuotamento della democrazia inizi con il fenomeno Covid, però credo che concordiamo sul fatto che la pandemia abbia, come dice proprio Cacciari nella post-fazione al libro di Bizzarri, toccato il corpo delle persone. Quindi, come dire, abbiamo superato un limite e il fenomeno Covid ha manifestato, come dice Nancy Fraser nel suo ultimo libro, un'orgia del capitalismo cannibale, un'orgia del capitalismo cannibale. Quindi abbiamo in un certo senso superato un limite e questo è il primo punto che vorrei sottolineare, cioè il sistema della guerra, lo stato di guerra, non nasce ora, non nasce soltanto in questi ultimi anni, è molto antico, forse addirittura originario per certi aspetti, e su questo termine bisognerebbe riflettere qualche ora, e procede da molto tempo nella sua versione moderna, quindi c'è, come dire, originariamente, ma nella versione moderna procede in modo, direi, accelerato. Ecco, Uvo Mattei nel suo libro con Capra lo descrive molto bene, il nuovo capitalismo mondiale ancora avallato giuridicamente dalla visione meccanicistica, quindi stato di guerra è una visione, anche filosofica, delle cose, che qui viene detta meccanicistica, si potrebbe dire riduzionistica, è stato citato Heidegger giustamente, che farebbe risalire lo stato di guerra ad una dimenticanza dell'essere, quindi almeno a 2500 anni fa per certi aspetti, quindi vedete quanto è antico, però indubbiamente la modernità ha accelerato, perseguendo scriteriate biotecnologie, dice Mattei, ha profanato la sacralità della vita, cercando di trasformare la diversità in monocultura, l'ecologia in ingegneria, la vita stessa in merce, quindi c'è un in dubbio processo di accelerazione che ci porta oggi, come abbiamo ascoltato, a riflettere su una società della guerra o un sistema della guerra che non è solo quella militare, ma è una struttura sociale che si organizza come guerra contro i lavoratori, per esempio attraverso uno sfruttamento, uno sterminio direi, ma anche come guerra contro le libertà, contro la democrazia, contro la verità, contro il pensiero, un totalitarismo dell'informazione, della propaganda, anche una guerra direi contro la natura, contro i corpi, in un processo di surrogazione totale della vita che viene sostituita da surrogati scadenti il più delle volte e contraffatti. Ecco, è questo complesso sistema della guerra, secondo me, che oggi giunge, potremmo dire, ad una sorta di rivelazione finale e la rivelazione finale è che questo sistema della guerra è profondamente suicidario, cioè è come se in questi anni, sempre più acceleratamente, noi stessimo vedendo in una maniera rivelatoria, apocalittica in questo senso, che questo sistema di guerra, che poi è una forma mentale, è una forma dell'uomo, è una forma del nostro modo di essere umani, è suicidario, cioè se continuiamo così, produciamo e produrremo in maniera sempre più palese, evidente, una distruzione, una devastazione dell'umano, probabilmente senza rimedio. Ora, nel 1985, io ho portato un testo brevemente da citare interessante, alcuni intellettuali italiani, numerosi, da Claudio Napoleoni a Raniero Lavalle, da Turoldo a Balducci, da Mario Gozzini a Linda Bindi, per fare alcuni nomi, scrissero una lettera ai comunisti nel 1985, in occasione del 17esimo congresso del Partito Comunista Italiano e in questo documento, che io credo sarebbe da rileggere con attenzione, loro già dicevano che l'uscita dal sistema di dominio e di guerra, cioè impostare una politica come l'uscita da un sistema della guerra, fosse l'istanza rivoluzionaria da rilanciare dopo la crisi della critica al capitalismo. Quindi, se uscire dal capitalismo era già allora e oggi ancora più controverso, anche difficile da pensare, loro dicevano che però l'istanza rivoluzionaria doveva diventare più radicale. Quindi non è tanto uscire da un sistema economico, ma è uscire da un sistema mentale, antropologico che è interamente della guerra, l'uscita dal sistema di dominio e di guerra. E scrivevano se l'istanza dell'uscita dal capitalismo sembra inadeguata ad esprimere l'essenza della trasformazione oggi necessaria, noi crediamo che la necessità generale urgente, che esprime il bisogno e la speranza di milioni di uomini e donne in tutto il mondo, secondo me oggi più che mai, e che è capace ed esige di assumere oggi piena dignità di obiettivo politico, è l'uscita dal sistema di guerra e perciò potenzialmente da tutte le forme di dominio dell'uomo sull'uomo di cui il sistema di guerra rappresenta la compagine e l'ordinamento. Ora, io credo che noi oggi, per tutto quello che è successo dal 1985, siamo forse ancora più in grado di comprendere la radicalità del mistero, io oserei dire, del sistema della guerra, che è un sistema che è radicato non solo nelle strutture sociali, perché le strutture sociali dove sono radicate? Il sistema della guerra è radicato, mi verrebbe da dire con una battuta, nella natura mortale dell'uomo, quindi è la nostra natura mortale, la nostra natura di insoddisfazione, di incompletezza, di paura, quindi, che ci porta alla tendenza aggressivo-difensiva. Ora, questa cosa qui, io credo che non possiamo più sottovalutarla se vogliamo fare un ragionamento filosofico e politico contemporaneo, non possiamo, secondo me, continuare a immaginare di cambiare il sistema della guerra con una mentalità preeminentemente socio-economica che tra l'altro ha fallito, cioè ci ha provato, non è che non ci ha provato, abbiamo fatto il dialogo con Bertinotti, pace e rivoluzione e dobbiamo dire che quel progetto è finito nel fallimento o nella catastrofe. Allora, a mio parere, noi siamo in un punto, secondo me, anche propizio, in cui dobbiamo capire e decidere però anche se ci dobbiamo omologare comunque al sistema della guerra nella sua radicalità, magari con qualche piccola correzione, piccola riforma, lo miglioriamo un po', però quello è il sistema, quello resta, quello non ha alternative, non c'è possibilità di cambiare il sistema della guerra, è utopismo, possiamo decidere questo e allora però non ci lamentiamo se i neoliberisti facciano il loro mestiere perché lo sanno fare meglio, sanno organizzare il sistema della guerra molto meglio perché è nella loro natura, è nella natura del pensiero neoliberale, individualistico, bellico, predatorio e quindi è chiaro che lo sanno fa meglio. Oppure è possibile rilanciare un'idea, una speranza di rivoluzione antropologica radicale che ha segnato tutta la modernità, non è che ce la stiamo inventando qua, tutta la modernità, ce l'ha spiegato bene Prete Rossi nel suo ultimo libro, tutta la modernità ha una radice messianica, è un processo rivoluzionario che nasce da un'idea molto chiara di un mondo decaduto che noi però possiamo correggere, questa è la modernità, questa è la politica moderna, da Hobbes ce l'ha insegnato appunto, ce l'ha ricordato perlomeno Prete Rossi, no? Allora questa cosa è finita e quindi però se è finita, se la speranza messianica nel cambiamento radicale dell'umanità è qualche cosa da archiviare, dobbiamo fare pace con questo sistema della guerra e dire che non c'è alternativa, il sistema della guerra è il sistema del mondo e questo mondo è l'unico mondo possibile, there is not alternative, sì possiamo fare qualche piccola correzione però non ci lamentiamo troppo, oppure a mio parere dovremmo e potremmo, perché abbiamo anche gli strumenti teorici per fare questo, ampiamente, se li utilizziamo, impostare un capovolgimento radicale, un progetto nuovamente folle, cioè rivoluzionario, messianico laico, non è che uno debba essere credente, certo poi un qualche rapporto dialogico con la radice spirituale della speranza messianica verrà naturale farla, però io credo che noi siamo in questo spartiacque, cioè siamo ad un bivio, siamo ad un bivio, cioè o accettiamo che questo mondo in qualche modo è irriformabile perché l'uomo è per sua natura bellico ed è irriformabile, oppure dobbiamo immaginare come abbiamo sempre sperato e creduto che non è vero, sì noi siamo tendenzialmente egoico bellici, abbiamo questa tendenza e abbiamo anche una tendenza storica a costruire una società su quest'immagine, però non siamo definitivamente questo, possiamo fare altro, è insido nell'uomo comunque questo anelito insoddisfatto a volere cambiare il mondo, non lo puoi soffocare, lo puoi come dire per un qualche tempo mettere buono, anche perché abbiamo avuto catastrofi che ci hanno in qualche modo mortificato, però dopo, superato il trauma, uno fa la psicoterapia, psicoterapia diciamo storico-filosofica e poi riprende il cammino. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!